Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Pietro Castiglioni ed oggi siamo in un nuovo vlog. In questo vlog vi farò vedere come modificare il vostro fidget spinner. Prendete una ciotolina e la riempite d'olio. Poi togliete queste due parti e togliete il cuscinetto, oppure semplicemente non lo togliete. Una volta tolto il cuscinetto, lo pucciate dentro la ciotolina che si riempia tutto. Poi con un fazzoletto asciugate ovviamente così che non vada a ungere tutto il vostro fidget spinner. Questo processo si può fare anche con la Coca-Cola perché si versa nel buco e poi vi spiegherò come costruire il fidget spinner e un altro trucco per fare il fidget spinner poi dopo vi spiegherò come costruirlo un altro trucco del fidget spinner è quello che con della colla vinilica le attaccate delle cose oppure con un piccolo nastro lo girate intorno e fate tre nodini o due o tre nodini. Se bravo volete esagerare ne fate tre. Io non so come farli perché non ne ho ancora fatto. E in questo caso inizierete a fare i trick senza che vi cada e si spacchi perché soprattutto soprattutto per questi di plastica io non so come